La rivincita dei numeri 10, potremmo chiamarla operazione fantasia, ed è quella attuata da Gargiulo, tecnico del Serino, del vecchio allenatore dell'Ariano, Martino, trainer dell'Eclanese e Gaito, condottiero del San Martino. I protagonisti sono Gianluca Cipolletta, autore di quattro centri, fino a questo momento con la maglia del Serino, dove è tornato dopo otto lunghe stagioni, prendendo per mano una squadra che sogna un posto tra le big. Altro protagonista è Nicola Nico Bernardo, due centri con l'Avis, arianese doc ed elemento dal piede delicato, abile sui calci piazzati. La formazione di Mirabella, invece, ha ritrovato Capitan Gennaro Ruggiero, che dopo un periodo di appannamento ha stiglato una doppietta contro il Grotta, salendo a quota 3 nella classifica Marcatoni. Infine, la sorpresa Salvatore Fruggiero, uno dei pochi a brillare tra le fila del San Martino. Quattro giocatori che, con le loro giocate, i loro colpi di genio e la voglia di essere protagonisti fino alla fine, sono pronti a regalare tante gioie ai loro tifosi. Quattro giocatori che, con le loro giocate, i loro colpi di genio e la voglia di giocare solo.